ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video un caro saluto a voi che state guardando frementi in attesa di vedere i video dei vostri amici dei vostri colleghi guardatori che hanno mandato il video con la collezione dei loro orologini questo è lo scopo della rubrica cioè mostrare gli orologi di coloro che guardano i video è un gatto è un circolo virtuoso che diciamo così come partecipare lo sapete basta che inviate un link prima caricate il video su we transfer.com poi mi mandate il link io lo scarico lo metto nella cartella a parte poi dopo un po lo guardo qua assieme a voi e ci facciamo un po due culture insieme no ora prima di guardare i video vi faccio vedere l'orologio del giorno che oggi è questo stupendissimo omega si master acqua terra 39 mm orologio del 2003 che ho fatto revisionare nel 2022 2021 non ricordo quindi praticamente è perfetto come nuovo calibro quassiale 2500 no scappamento quassiale e bando ai discorsi inutili e guardiamo il primo video ciao davide ciao stefano da ravenna ti faccio vedere i miei sette ragazzi che ho messo così un po tipo squadra di calcio squadra di subuteo questo è il portiere ed è praticamente un emilton cronografo emilton bello su cui ho fatto una piccola eresia nel senso che ci ho tolto il bracciale originale e ho applicato questo che non mi sembra male così sportivo a strappo su questo bel emilton cronografo che indosso e porto spesso e volentieri incominciamo subito con una interruzione ora un bel cronografo così militare in stile quasi no vintage ci sta bene un bel centurino vintage quello in punture o il suo bracciale no se c'è bracciale d'acciaio lo rende un po più maschio questo qua è sembra un giocattolo questo cinturino qua strappo in plastica poi io vorrei che far notare che segna le 11 e un quarto e il datario è storto come la via di codena proprio è tra il 29 e il 30 cambia le 11 e un quarto non mi ricordo questo calibro quasi cambia così presto è cosa sarebbe un 77 53 boh boh l'eresia ancora più grave l'ho fatto che il bracciale dell'emilton l'ho applicato a questo ma perché che è questo qui soltanto perché non lo so mi al post al polso mi stava meglio questo è un e ma guardala su si vede che non è il suo non lo vedi che c'è sembra lo stretto di suez guardala quanto spazio che c'è tra il finale del bracciale e la cassa io veramente faccio degli esperimenti a volte che non capiscono ti rendi conto che sembra una roba posticcia militari di 40 millimetri che tutto sommato non mi sembra male no quarzon naturalmente a quarzon e allora però insomma è fa la sua figura lo porto volentieri guarda lì si è aperto vi metto il fotogramma vi metto il fotogramma per farvi vedere che gli si è aperto il finale ma come fa a star bene ma come fa a star bene cioè l'hai fatto apposta per il video perché non puoi andare in giro con un bracciale che ti si apre il finale così a questo che è praticamente quello che consideravo un po' il pezzo forte diver Seiko che funziona perfettamente ma che ho l'impressione non sia al cento per cento originale nel senso che mi sembra e ti chiedo un parere che anche da dalla ghiera dalla scritta Seiko o da qualche altro elemento possa sembrare un movimento Seiko però ricondizionato in qualche modo e non del tutto originale che oltretutto ho comprato nuovo in cellofanato completamente nuovissimo mai toccato ma senza garanzia senza scatola per 150 euro che secondo me li vale ma non è un po' che lo porto e già qualche settimana mi sembra l'orologio più performante non ha scritte di nessun tipo sul cinturino sul fondello ma questo mi sembra anche normale perché questo tipo di orologi riporta sul quadrante le caratteristiche no secondo me non non è originale o è un assemblato o è un falso addirittura intanto la ghiera è quella gmt non lo vedi che c'ha 24 ore è la ghiera di un gmt cosa c'entra con un diver cioè non è la sua il bracciale non è il suo perché c'ha il giubilè lui se non mi sbaglio no poi anche su quadrante ci sono ci sono cose che non mi convincono non non è originale o è un assemblato è un falso cioè in ogni caso non è originale e non vale il discorso tanto l'ho pagato 150 euro cioè ma se se a se a me mi regalano una merda me la regala noi vabbè tanto è regalata me la metto in casa no non la voglio nemmeno regalata te la tieni te non vi capisco a volte questo un ti so che era di mio padre un bellissimo ti so quarzo anche questo di tipo ecco ps prs 200 ecco che ho rivitalizzato da poco rimettendo a posto la batteria e sistemandolo la batteria prorografo batteri bravo passiamo la parte più avanzata qui abbiamo gli attaccanti un altro seiko dorato seiko 5 automatico un po piccolino un po leggerino come tipo di bracciale peso e ora non lo porto spessissimo ma mi piace per poter cambiare un po utilizzare anche questo ma poi poi questo è un orient tristar che è più o meno nelle dimensioni nel peso del seiko appena visto ma si un po leggerino ma anche qui non non è un problema ma non lo porto molto più spesso c'è questo colore del quadrante che mi ha veramente colpito l'ho cercato finché sono riuscito a comprarlo su internet questo bellissimo celeste cielo celeste cielo orologio automatico che funziona molto bene che porto devo dire più che volentieri orient tristar automatico bravo ecco l'ultimo che vorrei farti vedere questo che è un lorenz automatico che ho sempre un po considerato almeno fino a qualche mese fa prima di seguirti sinceramente sul canale un po il quasi fosse il pezzo forte e pregiato del gruppo o perlomeno quello più di pregio percepito ecco quello un po più elegante per le occasioni un po più eleganti una perfetta leggibilità con quello che fa un po più figura al di là del prezzo in sé per carità sono tutti sostanzialmente diciamo entry level se consideriamo in questo senso però soprattutto quando ho visto che tu hai parlato della di questo marchio lorenz come di un marchio un po da centro commerciale un po insomma che è diventato una specie di di sottomarca insomma ultimamente e insomma così ho detto ma allora che valore ha questo questo orologio che ho comprato non lo so però insomma la sensazione percepita almeno di questo modello è di un orologio di un così che fa la sua figura di un di un buon orologio ecco io ti chiederei a parte il fatto di questa opinione su lorenz e in particolare della del fatto che questo seiko sia vero o sia finto o sia comunque in parte ricondizionato chiederei poi un parere generale su quale di questi orologi ti sembra il migliore o metterli un po in classifica insomma dal migliore al peggiore o dal meno peggio in giù o almeno insomma di scegliere uno in particolare che ti sembra il più degno di nota se vogliamo fare un attimo una scelta tra questi modelli mamma mia grazie di tutto e complimenti per il tuo canale grazie a te grazie a te aspetta che ora mi metto un attimo il fermo immagine con i con gli orologi che c'hai così vedo quali sono vuoi la classifica la parte che sono tutti i quarzoni la maggior parte sono quarzoni anche l'emilton è un quarzone ora ho avuto il 77 53 ora ho visto vedo lì che si muove la sfera si muove a scatti non ci avevo fatto caso è un quarzone anche l'emilton quindi tutti i quarzoni un orient crystal e un seiko 5 tutto placato d'oro l'SKX che è falso o è un Frankenwatch cioè non se ne salva uno non se ne salva uno cioè a quel punto lì veramente il Lorenz che è una marca un po così no fa degli orologi carini dai non è proprio da centro commerciale purtroppo come tanti marchi italiani storici sono un po persi fa anche degli orologi che sono delle copie che si ispirano chiaramente a degli orologi più famosi poi anche sto qua volendo assomiglia un pochino all'Oyster Perpetua da 36 c'è la data il Perpetua non ce l'ha però quel sistema lì di indici è la prima cosa che ho pensato e gli assomiglia hai capito cosa voglio dire però a questo punto veramente il Lorenz diventa la punta di diamante l'attaccante il fuoriclasse della squadra lì da Subutio che hai detto cioè si è messi male se il Lorenz è il punto forte si è messi male poi l'emilton al quarzo può avere un suo valore dice militare il quarto ci vuole al quarzo e allora va bene diventa quello lì la punta di diamante passiamo di questo emilton al quarto se no diciamo che insomma dai siamo capiti prossimo video vai ciao Davide e Daniele volevo semplicemente ringraziarti in quanto non ho mai indossato un orologio in vita mia non possiedo vecchie rimanenze in quanto anche da bambino da ragazzino non ho mai indossato un orologio sono da venti giorni che mi è venuta un po' la scimmia del di possederne uno e niente mi sono imbattuto nei tuoi video veramente da venti giorni e niente ho deciso di prendere il mio primo orologio in pratica hai visto la luce no? non ti ne fregava niente degli orologi poi hai visto il mio video e hai visto la luce e finalmente ti è entrata la passione della cucuzza e adesso puoi andare a comprare gli orologi no? sperperare non sai dove ti sei cacciato che è questo non so a dirti che movimento monta uno perché già lo sai due perché ti ripeto sono inesperto mi sto affacciando adesso a questo mondo e devo dire che trovo che l'orologio sia non è semplicemente un oggetto ma è un'opera d'arte come un quadro e quindi niente volevo veramente ringraziarti grazie a te perché mi hai fatto scoprire un mondo che prima non conoscevo e conosco solo da 20-25 giorni e niente spero che questa passione adesso continui e andrà avanti ho preso questo perché ho ritenuto anche che da inesperto comprare un orologio anche di fascia minore avevo paura non essendo esperto di prendere una ciofega perché non ne capisco tanto ancora di movimenti le cose quindi mi sono affidato prima di tutto al marchio che sicuramente è un buon marchio e poi al piacere mi piaceva proprio tanto questo orologio quindi mi sono affidato semplicemente al piacere ecco un abbraccio e grazie di tutto un abbraccio a te grazie ecco ho fatto l'esempio del primo orologio di uno che entra nella passione per gli orologi a prima vista a primo marchito verrebbe da dire cavoli ma è speso 2000 euro quanto costa non lo so nemmeno per un Longin Hydro Conquest subito di botto al primo orologio non era meglio se facevi tutta la scaletta bla 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 può darsi anche che abbia fatto la cosa giusta ha dato la sua spiegazione ha paura di prendere delle fregature di essere deluso sicuramente come quando uno è un neofita e acquista il primo orologio non deve andare sul vintage ma addirittura anche sugli usati oserei dire perché? perché se poi dopo si trova in difficoltà con un problema all'orologio e non essendo nell'ambiente si trova in difficoltà da chi portarlo a riparare cosa fare, capire se è veramente rotto, se non è rotto invece con un marchio come Longin vai sul sicuro perché la qualità c'è bla 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 però hanno anche un servizio di assistenza che è eccellente sopra le righe, te lo vengono a prendere a casa se ha un problema l'assistenza te lo vengono a prendere a casa in garanzia te lo riportano quindi vai anche a eliminare tagliare quella fetta di problemi che potrebbero esserci dopo l'acquisto perché gli orologi non sono perfetti anche i marchi più blasonati ti può arrivare l'orologio con dei problemi o possono sorgere quindi non è... e secondo me ha fatto anche una buona scelta ora magari dopo il primo così addirittura potrebbe fare la scelta inversa cioè un orologio da 2000 euro come primo e poi andare a pescare degli orologini per divertirsi perché sicuramente questo qua indossarlo essendo il tuo orologio più pregiato indossarlo tutti i giorni in tutte le situazioni incomincerai a dire ma forse mi ce ne vuole uno un po' meno costoso che posso bistrattare come meglio credo e allora magari passi a un un orologino da 400, 300, 500 euro di quelli da utilizzare un po' più con spensa e ratezza ognuno fa il suo percorso comunque complimenti perché come prima scelta non è sbagliato il calibro è l'L888 così lo ribadiamo prossimo video ciao Davide un saluto a tutti gli amici del canale saluto mi chiamo Simone ho 22 anni e quest'oggi vi mostrerò la mia piccola collezione partiamo subito dal primo orologio dai dal primo regalo dei 16 anni Citizen ProMaster un diver da 200 metri a batteria non a batteria orologio estremamente affidabile e da qui è partita la mia passione è accumulatore questo non è a batteria proseguendo con i lasciti abbiamo questo Braille che era di mio padre ma è un po' che bellino questo Braille al quarzo no? ho avuto un Braille meccanico degli anni 80 credo ma sono cioè facevano degli orologi con una cioè con una linea accattivante se oggi facessi un orologio di questo tipo qua così automatico sottile perché se me lo fai automatico spesso anche no io lo coprirei cioè non ci sono mica problemi bellino questo qua dai successivamente abbiamo questo Seiko Quartz cronografo mio nonno e allora questo qua è quello con il calibro continuando con gli orologi di mio nonno famoso di Seiko questo Citizen automatico che bellino che è questo molto carino con questo bracciale particolare il quadrante in base a bello i riflessi del sole della luce cambia la tonalità abbastanza rovinato bracciale sottile che porto molto frequentemente mi piace molto è bello anche a me mi piace abbiamo questo l'orex automatico mi carino che questo flaccato d'oro eccolo qua montato questo cinturino in cocco al suo interno monta un eda 28-24 pesate bello orologio secondo me molto carino continuando abbiamo questo Citizen su Yosa su Yosa colorazione detta Tiffany Tiffany è azzurro orologio estremamente robusto monta un miota 82-10 eccolo qua è un best buy con della vista vetro in zaffero brutto molto preciso preciso secondo me bellissimo con questo suo quadrante continuando abbiamo cosa questo Omega e vabbè collaborazione con Swatch spero che non mi darai il Joe Fekalert ma è un orologio che ho preso così così perché mi incuriosiva bravo spendi i soldi secondo me resta comunque un bellissimo orologio nonostante tutto sia una collaborazione che vabbè tutti noi sappiamo è una Swatch è bellissimo è una Swatch proseguendo abbiamo un Tissot questo qua è il mio primo Tissot regalo di 18 anni automatico non l'ho mai visto vetro in zaffero prima volta che lo vedo che ansia i finali cinturino veramente robusto non l'ho mai visto monta un ETA 28-24 28-24 quindi siamo già ancora questo è il movimento che non mette a fuoco che è un orologio estremamente preciso robusto anche bello al polso sta così quanti è? quanti è? è un 39 mm perfetto è un orologio che amo continuando con il Tissot l'ho scoperto questo Tissot PR100 certificato COSC ora questa è la sua certificazione bravo eccola qua COSC ora ve lo mostro a cui ho montato ho tolto il bracciale e ho montato questo cinturino in coccodrillo con la fibbia di Tissot è un Powermatic 80 eccolo qua c'entra una micchia l'orologio estremamente bello ci sta si al polso sta così eccolo qua simpatico eh promosso in tutto il suo splendore continuando splendore esagerato finalmente dopo molti risparmi sono riuscito ad acquistare anche te il Longin dai l'ho dato prima top Hydro Conquest top dai da 39 mm con chiara in ceramica un orologio che ultimamente è salito molto di prezzo eh quanto costa? ho dovuto aspettare un pochino fantastico un orologio fatto veramente bene l'ho utilizzato molto come si può vedere dai graffi eh si graffi l'unica pecca di questo orologio secondo me il cinturino bracciale che ovviamente cattura i graffi in modo si pazzesco troppo lucido ecco qua monta un calibro Longin L8-8 8 bravo questo è il fondello molto molto bello c'è un polso sempre da 16 e mezzo quindi per forza ho dovuto acquistare il 39 mm si ci sta dai penso che la misura sia quella giusta bravo si hai azzeccato dai proseguendo con l'ultimo roggio ultimo acquisto Longin Lair ah lì eccolo qua monta un movimento sempre Longin L8-8 8.5 roggio da 35 mm 35 vetro in zaffero elegante sto qua fantastico come è veramente elegante poff utilizzo come dress watch anche se eh si non è proprio un dress watch solo per la data veramente veramente un orologio fantastico e niente Davide questa era la mia piccola collezione spero che il video ti sia piaciuto pis allora tutti tutti i begli orologi anche quelli vecchioti del nono poi quel tissu particolare con le anse con i finali così sagomati non l'avevo mai visto oggi ho scoperto un orologio nuovo poi per concludere l'ultimo Longin Lair proprio elegante te dici dress watch anche se non è è un dress watch dai 35 mm c'è solo la data che spezza un po' l'eleganza e forse il quadrante che è bianco tanto non è adatto sarebbe più adatto scuro però no è proprio il Longin che ci si aspetterebbe di vedere siamo abituati io con i Longin vintage a vedere quello stile lì lo stile classico proprio formale dei Longin di un tempo e in quell'orologio lì ultimo che è il Lair c'è tutto quello spirito lì poi è chiaro che Login è anche altro cronografi diver e tutto il resto però nell'immaginario l'orologio del nonno dai diciamo così l'orologio quando ti metti in un Longin vintage ma cosa c'è l'orologio del nonno eh no non capisci niente e invece questo qua è un signor orologio capito vabbè prossimo video ciao Davide spero che le vacanze estive siano andate bene ti invio questo video fra un Natale per me purtroppo è l'ultimo giorno prima di rientro e volevo concludere appunto la parentesi la parentesi estiva condividendo sul tuo canale una delle mie più recenti ed inaspettate passioni va bene ne approfitto anche per ringraziarti poiché in parte anche grazie al tuo contributo e ai tuoi video che ho iniziato ad approcciarmi al collezionismo dei segnatempo e continuo tuttora a ricevere stimoli nel ricercare pezzi che possono arricchire appunto la mia collezione bravo senza perdere altro tempo inizio con un minuto è passato con il primo orologio ecco questo è un Bomersier classima un quarzone a cui tuttavia sono particolarmente affezionato poiché si tratta di un regalo della mia ragazza per i miei 30 anni e sebbene da un punto di vista tecnico hanno regali forti emozioni devo dire che le finiture e sicuramente i materiali sono sicuramente i furbacchioni non ci hanno messo la lancetta dei secondi così non vedi che è al quarzo è come nascondere la polvere sotto al tappeto tutto pulito tutto pulito nascondi la polvere sotto al tappeto qua non ci metti la sfera dei secondi che va a scatti sembra quasi che non sia al quarzo invece è un quarzo apprezzabili ho regalato lo stesso segnatempo alla mia ragazza bravo per i suoi 30 anni naturalmente con diametro 29 mm ecco in quel periodo ora ne abbiamo 33 in quel periodo entrambi non avevamo la più palida idea di cosa fosse un calibro un movimento meccanico insomma non avevamo un buon bagaglio ecco tecnico in materia di orologi in materia di segnatempo e quindi decidemmo di entrambi di regalarci due orologi che avessero appunto movimento al quarzo ad oggi con un pizzico in più di esperienza avremmo evitato di incorrere nell'errore di acquistare un orologio al quarzo ma non è un errore acquistare un orologio al quarzo cioè capiamoci eh ora per me sì nel senso no però non è che devi rimpiangere il fatto di allora se uno è consapevole più che altro puoi rimpiangere il fatto di non essere di aver fatto un acquisto non consapevole perché se uno ha davanti a sé tutto un ventaglio di possibilità sconosce il calibro automatico conosce il calibro al quarzo al diapason ecodrive tutte le varie tecnologie che ci sono poi può scegliere in libertà e scegliere mi compro un quarzo invece il punto debole è che ti hai comprato il quarzo senza conoscere tutto il resto che c'è attorno e questa è l'unica cosa che ti si può amputare altrimenti prendiamo la leggera no? sto spendendo una cifra considerevole ma ad ogni modo siamo entrambi molto legati a questo orologio bravi passo velocemente in rassegna questo Seiko 5 ecco Seiko 5 che è stato più volte presentato sul tuo canale non ha sicuramente bisogno di presentazioni merita sicuramente menzione nella mia collezione poiché si tratta del mio primo orologio automatico regalatomi sempre dalla mia ragazza la quale dopo aver maturato un po' più di esperienza anche grazie al tuo canale ha preferito ecco omaggiarmi di questo versatile di questo versatile orologio devo dire che non l'utilizzo più spesso ma ne riconosco sicuramente la versatilità poi al primo orologio con una storia davvero importante alle spalle che è stato anch'esso più volte presentato sul tuo canale ovvero un Bratling Cronomat con un movimento ETA 7750 quadrante nero con contatori oro e cinturino cinturino nero ecco sin dall'inizio sono stato attratto dalla storia di Bratling e alle ragioni sottostanti il lancio del Cronomat in occasione appunto del centenario della casa orologiera e devo dire che grazie alle sue specificità tecniche ed estetiche a partire appunto dall'inserimento dei cavalieri dei quattro cavalieri appunto su la ghiera sulla lunetta per incassare quel vetro e per garantirne naturalmente una maggior sicurezza è sempre stato uno degli orologi che mi ha da subito ecco affascinato dai primi ecco approcci al alla alla materia orologio davvero davvero pregevole passo poi a un altro segnatempo che diciamo che mi sono imbattuto per caso sì dove tiralo fuori durante l'esplorazione in un mercatino ecco questo è un Longin The Pioneer GMT Wartime orologio con cassa in acciaio da 38 mm e un vetro zaffero antiriflesso lo stesso vetro è utilizzato anche sul fondello fondello a vista in cui da cui risulta evidente il movimento orologio automatico L635 con ghiera girevole ghiera girevole bidirezionale con 24 con indicazione di 24 appunto città del mondo e molletta per bloccare ecco la la ghiera orologio sicuramente molto molto affascinante ma sì bravo non mi piace non mi piace non posso non mostrarti uno degli orologi più iconici del a rovescio dell'orologeria del del 900 ovvero un girecuter reverso referenza 258 86 con movimento a carica manuale orologio che sicuramente non ha bisogno di presentazione è il per quanto mi riguarda il dress watch per eccellenza nonostante le motivazioni che poi hanno portato alla sua reazione sono state prettamente ecco sportive considerando appunto l'esigenza di proteggere i dial degli orologi dei giocatori di polo da appunto danni e che dire sì però questa cosa qua di giocatori di polo che gli hanno costruito questo orologio perché così quando si è cavallo polo lo giri con la parte di acciaio verso l'esterno che cosa ti serve l'orologio se c'hai la parte d'acciaio verso l'esterno cioè se vai a giocare a polo con l'orologio girato così non ti serve allora te lo levi lo lasci nello spogliatoio o dove ti pare a te lo dai alla consorte ti emmelo e vai a giocare a polo senza orologio perché se no cosa fai mazza briglia l'orologio ora devo guardare l'ora butti via tutto lo rigiri guardi l'ora lo rimetti dentro e poi riprendi c'è qualcosa di una incongruenza in questa in questa storia vabbè era così tanto per dire qualcosa non sapevo cosa dire ho detto questa cosa orologio davvero davvero iconico non lo utilizzo spesso preferisco utilizzarlo in occasione un po' più come dire eleganti in occasione un po' più formali passo poi vai questo rolex rolex dejust referenza 16-0-30 chiamato buckley 36 mm con ghiera zigrinata e calibro 30-35 automatico calibro dotato di fermomacchina e scatto rapido del datario l'orologio è stato lanciato nel 1985 concludo la collezione con questo rolex oyster oyster 10-10-05 bellino è un orologio da diametro di 34 mm con oro 18 carati con fibbia rolex e cinturino in pelle orologio molto molto elegante molto classico dalle linee essenziali come i rolex naturalmente dell'epoca certo è un rolex che risale al 1960 e con calibro 15-70 mutuato dal 15-30 è un orologio che purtroppo non utilizzo spesso ma che ne apprezzo quotidianamente con le linee e come dire deforme ok davide ti ringrazio per la disponibilità a presto a presto love oh bella bella collezione ora gli ultimi due gli ultimi due rolex io per il non sono tanto per il vintage capito perché non mi va di spendere così mille mila euro in orologi vintage degli anni 80 degli anni 60 no no io lascerei lascio e lascerei questo settore ai collezionisti veri cioè chi colleziona gli orologi vintage e allora vuole quello del 60 quello del 65 quello del in quel caso lì si a uno come me come te che gli orologi li prende per indossarli per utilizzarli andrei più sul sul nuovo sul secondo polso eh orologi costosi sto parlando GGLQ3 è un orologio che sto appuntando che punto che è lì mi piacerebbe tanto prendere sono anche arrivato a pensare che siccome un orologio tutto d'oro ci starebbe mi piacerebbe prendere un GGLQ3 reverso completamente d'oro col cinturino chiaramente in pelle però costano un botto della madonna e per arrivare a un prezzo decente bisogna andare indietro nel tempo e prenderlo vintage nemmeno ne ho vintage anche dagli anni 2000 e io non ci riesco sto facendo fatica a volte mi convinco ma si lo prendo del 2000 tutto d'oro no io se lo voglio lo voglio nuovo o di secondo polso recente quindi inizierebbe a costare veramente tantissimo un orologio d'oro così quindi mi faccio andare bene anche l'acciaio però anche lì devo scegliere la misura ho provato quello da 45 di altezza perché è difficile pensare alle misure in rettangolo 45 di altezza e mi stava bene però vorrei anche provare quello da 42 perché c'è anche da 42 45 e 42 quale differenza potrà mai esserci poca quindi può darsi che il 42 mi stia meglio del 45 quindi devo ancora fare tutte queste prove contro prove poi decidere vedere un po' insomma sapete come va a finire comunque per il resto gli orologi da poco che collezioni ma vedo che hai già la parlantina e il sour fair anche del lato tecnico bravo continua così boh mi sembra di aver detto tutto ragazzi non mi resta che ringraziarvi per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video spero che vi sia piaciuto il presentatore e vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 Grazie a tutti.